La tutela della salute pubblica è da sempre una priorità assoluta del mondo del volontariato che si occupa di attività sanitarie. Ed è per questo che la Federazione delle Misericordie di Puglia, visti anche gli ultimi accadimenti, ha inteso lanciare un appello verso tutti quei cittadini che stanno tornando da zone che hanno avuto un maggior numero di casi di coronavirus. È necessario informare le autorità preposte attraverso i medici di medicina di base o da attraverso il servizio di igiene pubblica della propria città o ASL per informare del rientro a casa in regione. Questo è fondamentale per tutelare al meglio l'operatività di tutti i servizi sanitari essenziali come il 118 e di pronto soccorso, ma è necessario ricordare che in questo modo e soprattutto rispettando le norme imposte dal governo, si difende anche la salute di chi magari ha più possibilità che questo virus sia maggiormente aggressivo, come chi è immunodepresso o combatte battaglie con altri tipi di male. Insomma, serve uno sforzo importante e civico da parte di tutti per far sì che il sistema sanitario nazionale, che fino ad ora ha risposto con grande forza e professionalità, nonostante le difficoltà, non vada al collasso. Noi vogliamo fare un appello in più, l'appello che forse ci riguarda più da vicino, cioè quello di sensibilizzare e di responsabilizzare anche chi viene dalle zone del focolaio, quindi chi effettivamente è stato in una zona è colpita, che è accertata, deve avere almeno la consapevolezza e la responsabilità morale di procedere con tutte le precauzioni che sono state già dettate ampiamente, quindi avvisare il Dipartimento di Prevenzione, avvisare il il medico corante, ma soprattutto deve avere questa consapevolezza per evitare che ci possa essere un contagio più diffuso. Mondo del volontariato che è operativo H24, Giansin ha le prime fasi dell'emergenza. Mondo del volontariato che sta lavorando a lacremente anche per continuare ad assicurare servizi essenziali sia nelle zone rosse che in zone magari sottoposte ad una sostanziale quarantena. La nostra sala situazione nazionale ha attivato subito tutte le procedure d'emergenza, quindi tutte le nostre sale regionali sono attive e su questo noi abbiamo costante collegamento perché in ogni regione ci sono delle attività precise, seconda poi anche dell'emergenza in sé per sé. E per uscire da questa emergenza l'ultimo appello è senza dubbio quello di rispettare poche ma essenziali regole. La più importante è quella di lavarsi spesso le mani che deve essere un lavaggio accurato che dura parecchi secondi come le disposizioni che ci arrivano da livello nazionale. Ricordatevi che se siete raffreddati o che comunque state per starnutire o la tosse la dovete fare in un fazzoletto. Ricordatevi anche una cosa importantissima di non stare con tantissima gente.